Buonasera, stiamo per partire con una nuova puntata del nostro Vox Populi, la fase più acuta dell'emergenza alluvione in Romagna alle spalle, ma questo evento straordinario in molti versi mai visto sul nostro territorio ha lasciato una lunga scena di distruzione a partire dalle 15 persone che hanno perso la vita, centinaia le strade dissestate non percorribili, centinaia le frane, più di 20 i corsi d'acqua che sono esondati tutti contemporaneamente, insomma si è creata una situazione con abitazioni e imprese sott'acqua, migliaia di sfollati nei primi giorni dell'emergenza, ma in questo momento la Romagna, il territorio sta cercando di ripartire subito, si cerca un piano di aiuti, un piano di ripartenza per agganciare una ripresa il prima possibile di questo, parliamo questa sera come sempre con tanti ospiti in studio, sigla. E ben ritrovati in studio per il nostro Vox Populi, il programma d'attualità di Confcommercio Cesenate, vado subito a presentarvi i miei ospiti a partire da Augusto Patrignani, Presidente di Confcommercio Cesenate, ben ritrovato Presidente, benvenuto anche alla Sindaco di Cesena, il Presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, ben ritrovato. Buonasera. Benvenuto anche Maurizio Paganelli, imprenditore. Buonasera. Benvenuto anche a Roberto Vignatelli che è Presidente di Confcommercio di Forlì. Buonasera. Ben ritrovato anche a Nicola Pozzati, anche lui imprenditore Cesenate. Cesenate, intanto grazie a tutti per essere qui, per parlare di un territorio ferito, Presidente, la Romagna, dopo l'alluvione delle scorse settimane. C'è però un motto, uno slogan che si è diffuso, Tin vota in dialetto romagnolo. Teniamo duro, lo ha detto anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, insomma anche dimostrazione che la gente di Romagna non si arrende e si vuole subito rialzare. Noi in Romagna ci aggiungiamo anche un altro termico, non so se si può dire in televisione, però lo dico in dialetto e magari così non tutti lo capiscono. It is strength and cool it in botta. L'abbiamo detto veloce, così si può dire poco. Sì, diciamo che purtroppo il dramma c'è stato e i segni sono ancora sicuramente evidenti perché non è che i miracoli non si possono fare, però quello che è emerso, che sta emergendo, insomma che c'è un popolo, c'è un popolo romagnolo che ancora prima di chiedere aiuto si è rimboccato le maniche e ha cominciato a sbadilare, come si dice, perché tutta questa montagna di fango, non solo di acqua purtroppo, ma anche di fango, il romagnolo non si è perso d'animo e naturalmente si è messo subito a lavorare. E' chiaro che adesso c'è tanto bisogno da parte di tutti, delle istituzioni, perché le risorse servono, perché comunque i danni sono tanti e quindi tutti insieme dobbiamo lavorare, stare uniti per raggiungere il risultato, perché è quello che siamo in stagione, dobbiamo ripartire, noi abbiamo un territorio anche molto turistico, la nostra riviera è pronta perché per fortuna non è stata toccata, se non in minima parte, quindi la riviera è già pronta, noi vogliamo il turismo, vogliamo tornare sulle nostre spiagge e passare una buona estate, quindi tutti insieme faremo di tutto per far sì che questo possa avvenire. Fare squadra per ripartire subito, facciamo però un passo indietro, dicevamo la riviera, la costa è stata per fortuna meno coinvolta da questo evento alluvionale, Cesena invece sindaco è stata una delle prime, tra l'altro, città che è stata coinvolta dell'emergenza. In una battuta, cosa ricorda di quel 16 maggio? Ricordo che alle 8 del mattino Cesena la pioggia si era fermata, aveva iniziato durante la notte, ma mi sono arrivate le prime segnalazioni dalla zona di Borello e di Mercato Saraceno di problemi, sono andato, c'erano già i carabinieri, il sindaco di Mercato Saraceno al confine tra Bora e Borello e il torrente Borello era già in una piena con una forza devastante. Quello che è successo è che questo ciclone, queste piogge davvero molto intense si sono concentrate su tutta la fascia collinare. Noi in realtà nella città di Cesena abbiamo visto piovere intensamente per un giorno e mezzo, ma non così tanto da far pensare ad un effetto del genere. A Monte stava succedendo qualcosa di molto più importante e rimangono i segni, che sono quelli delle frane, state anche mostrando, centinaia e centinaia, migliaia di frane che hanno coinvolto tutto il versante collinare da sopra Sant'Arcangelo fino ad arrivare a Modigliana, quindi un fenomeno naturale sproporzionato rispetto alla capacità del nostro territorio di reggere questo urto che ha causato danni ingenti, ha causato 15 vittime, sono le uniche cose che non riusciremo a riportare indietro e questo è un motivo di grande sofferenza. La città di Cesena è stata la prima ad essere colpita alle 16 di martedì, tra le 15 e le 16 sono iniziate le prime esondazioni nella zona dell'ex zuccherificio, nella zona di via Roversano, nella zona di San Rocco, di via 4 Novembre ed è stata anche la prima a ripartire, a rialzarsi. La città oggi funziona, si è riattivata, questo già nel giro di qualche giorno, grazie ad uno sforzo enorme che è stato potenziato da un volontariato, da una voglia delle persone, dei cesenati, anche di tutti quelli che sono arrivati da ogni parte d'Italia, ho incontrato volontari che sono arrivati da ogni parte d'Italia, oltre naturalmente ai mezzi di soccorso con la divisa. In pochi giorni siamo ripartiti, non dobbiamo dimenticarci tuttavia di queste ferite, delle ferite che abbiamo con le frane su tutto l'arco collinare e delle ferite che abbiamo con le centinaia e centinaia, migliaia sono in realtà in tutta la Romagna, di famiglie che hanno perso la casa, hanno perso tutto o quasi tutto, e delle imprese, imprese agricole, imprese commerciali in particolar modo, che sono state direttamente colpite dall'alluvione e che hanno perso il luogo dove poter esercitare, e i mezzi per poter esercitare la propria attività di impresa. Questo è quello che stiamo chiedendo al Governo per ripartire. Poi, dopo il ristoro, dopo l'indennizzo, dopo il contributo che dobbiamo dare a queste persone, a queste imprese che sono in difficoltà, c'è un altro grande progetto da costruire, che è quello del rafforzamento della capacità del nostro territorio di reggere fenomeni come questi, che sono nuovi per il territorio, ma a cui dobbiamo, tra virgolette, abituarci, o quantomeno, dobbiamo prepararci a reggere un urto più forte rispetto a quello che eravamo in grado di fare. Ecco, parleremo anche di questo, nel corso di questa puntata, come sentite, il sindaco di Cesena ha già citato moltissimi spunti di riflessione, perché c'è tanto da dire su questa tragedia, su questa sciagura che si è abbattuta sulla Romagna. Una prima stima dei danni, Vignatelli, vengo da lei, parla di circa 7 miliardi di euro, ma sicuramente, insomma, poi dovrà essere aggiornata nel corso delle prossime settimane, ma è cominciata, ecco, diciamo, la conta dei danni, anche nella sua Forlì, che è stata fortemente colpita. La Forlì è stata fortemente colpita. Io posso parlare, perché abbiamo raccolto dei dati, per quanto riguarda i nostri associati, per quanto riguarda la nostra categoria. Noi possiamo dire che i danni stimati ad oggi, segnalati dai nostri associati, i nostri associati sono stati colpiti duramente 75 aziende. E si parla di, siamo attorno ai 5 milioni, 8, 6 milioni di danni riguardo proprio la nostra parte, la nostra quota. Quindi, messo nel contesto generale, sicuramente si raggiungeranno delle cifre molto, molto elevate. Come diceva il Presidente Latuca, i problemi toccano tutti. In questo momento, noi abbiamo degli associati che hanno le aziende da Tredossia, Modigliana, tutte le vallate così, il fatto che ci sono queste strade interrotte, Montepaolo, Sopra Dovadola, addirittura completamente isolato. Quindi, difficoltà. La grande difficoltà, io sono in contatto con i nostri associati, delle persone appunto, come ci siamo, che sono molto vicine, e che ci esprimono le loro necessità e il morale. Hanno necessità di sentirsi che possono ripartire, che non sono abbandonati a loro stessi. Perché c'è questo fatto di questo territorio così ferito che deve riprendersi il prima possibile perché si vive anche di turismo, non solo sulla riviera, ma anche nell'entroterra. Forlì rappresenta un po' tutto l'entroterra e quindi l'entroterra così, così, fortemente colpito, ma anche la città di Forlì, spaccata in questo modo, come ferita in questo modo qui, ha necessità. Anche emotivamente è dura. Anche emotivamente è dura. Una vicinanza, Paganelli vengo da lei, che è stata dimostrata dalle massime istituzioni dello Stato. Nei giorni scorsi c'era il Presidente della Repubblica Mattarella che ha detto saremo con voi, non vi preoccupate, specialmente ai sindaci che sono coloro che stanno gestendo l'emergenza, non vi preoccupate, arriveranno i fondi, noi vi saremo vicini. E poi c'è stata Meloni, la Premier, tutti i ministri praticamente. E poi anche la Presidente della Commissione Europea nei giorni scorsi, Ursula von der Leyen. Abbiamo visto tra l'altro che ha visitato la zona, la sua via, perché lei è stato colpito, un imprenditore è stato colpito anche in prima persona a casa sua. Sì, io ho la residenza sia come abitazione di famiglia che anche gli uffici delle mie attività in via X di Rassegno che purtroppo è stata una delle vie in assoluto più colpite. Io ho misurato a casa mia, l'acqua ha raggiunto i due metri e trenta di altezza, misurata, due metri e trenta di altezza, quindi spazzato via completamente un piano e stava già arrivando al piano secondo. Però devo dare atto che gli sforzi, in primis dell'amministrazione comunale, successivamente della protezione civile, sono stati veramente incommiabili perché già il giorno dopo, cioè il giorno stesso un anfibio che navigava in via X di Rassegno, già quella sembrava un'immagine veramente cinematografica, vedere un anfibio vigile del fuoco in via X di Rassegno che l'ho filmata è stato veramente incredibile. E il giorno dopo il sindaco in persona, il vice sindaco, la protezione civile subito in via X di Rassegno perché la nostra via è stata veramente spazzata via dalla furia dell'acqua. E anche il discorso che un paio di volte è venuto il governatore Bonaccini, poi la Ursula von der Leyen che ho avuto anche il piacere di scambiare due parole con lei che gli spiegavo com'era e che cos'era la pedina romagnola che le era stata offerta gentilmente dai ragazzi della protezione civile, dai volontari. e quindi tutto questo diciamo che alza il morale soprattutto del nostro quartiere perché fa vedere che lo Stato, la Regione e l'amministrazione comunale c'è, ci sono, sono presenti e quindi sono disposti ad aiutarci. Soprattutto tenere alto il morale adesso io personalmente ho sempre cercato di sdrammatizzare tutte queste situazioni ma in effetti magari ci possono essere persone più deboli più fragili che magari hanno qualche difficoltà in più. Ecco, queste immagini che stavamo vedendo poco fa dalla regia credo che... Queste sono queste di casa mia. Queste sono proprio è l'inizio quando arriva il fiume che entra in pratica a casa mia nel mio giardino e dopodiché lì un po' alla volta l'acqua raggiunge i due metri e trenta cioè in pratica tutta la cucina una parte di salotto completamente sommersi dall'acqua. Sono davvero immagini abbastanza indicative della sciagura che si è abbattuta sulla città di Cesena. Ecco, questa è la mia cucina quando comincia ad entrare l'acqua questa è la mia moglie siamo ancora all'inizio poi a un certo punto quando l'acqua mi arriva all'altezza più o meno del polpaccio mi rendo conto che devo la cucina ormai non la puoi più salvare devo cominciare a salvare almeno le auto porto via l'auto e la porto verso Torre del Moro quando torno gli ultimi 20 metri per entrare in casa che passo non dal piano terra ma passo dalle scale che vanno direttamente nel mio ufficio di sopra entro a nuoto gli ultimi 20 metri li ho dovuti fare nuoto perché erano già due metri di acqua però insomma è apprezzabile anche il sangue freddo che ha mantenuto perché adesso lo racconta in maniera relativamente tranquilla però immagino che in quei momenti insomma vedendo la propria casa i propri lavori bisogna cercare sempre di mantenere comunque la lucidità è chiaro Pozzati intanto che vediamo queste immagini purtroppo adesso noi non vogliamo essere pessimisti disfattisti però bisogna anche dare atto di quello che è accaduto e che è accaduto in prima persona le persone che abbiamo anche in studio Nicola Pozzati anche lei un imprenditore dicevamo che l'agricoltura è stato un po' l'ambito più colpito qui vediamo che già l'acqua era cresciuta nel frattempo è un po' in effetti inquietante vedere col passare insomma delle ore l'acqua salire nel suo quartiere questa è via Malta questo è un video sempre che ho fatto io quando ritorno appunto dal parcheggio dell'auto ecco dicevamo Pozzati allora il comparto agricolo probabilmente è quello più colpito perché le culture sono finte sott'acqua mezzo raccolto è andato perso non si saprà anche nel futuro che cosa sarà salvabile che cosa no però anche le altre aziende anche il comparto degli esercizi pubblici ha subito fortemente le conseguenze di questa alluvione poi quando succede una tragedia di questo di questo di questo impatto poi a cascata si lega tutto no perché comunque l'agricoltura è poi la fornitura delle altre attività secondarie le attività necessariamente sono il pilastro del turismo insieme a tutte le attività informative di accoglienza quindi è tutto un escalation di danni che si vanno a sovrapporre uno con l'altro c'è da dire che sicuramente nessuno si aspettava un volume di disastro di questa dimensione dall'altra parte è stato splendido notare come tanti giovani dell'università e tanta gente anche non residente a Cesena rimboccarsi le maniche dal primo minuto e darsi da fare su questa cosa c'è stata una gestione come diceva prima Paganelli dell'amministrazione comunale a mio avviso impeccabile una presenza vivissima all'interno di tutta l'emergenza ed è stata un'emergenza che nel bene e nel male ha unito tutta quanta la città e le città limitrofe ovviamente tutta la Romagna però nel guardare Cesena che abbiamo vissuto negli ultimi giorni in maniera così intensa è proprio rinato riesploso questa unione questo patriottismo cittadino quasi che ha fatto sicuramente scalpore in tutta Italia e in tutto il mondo questo senza ombra di dubbio ma che sicuramente ha riportato una città a capire anche quelli che sono i valori che ci hanno sempre guidato e questo sono convinto che nel futuro più prossimo darà i risvolti più grandi abbiamo già parlato dei danni anche alle attività commerciali è necessario che il turismo passi sì dalla costa ma anche che vengano ripopolate le città come il collega Paganelli ha avuto danni alla casa attività commerciali all'interno di Cesena abbiamo bisogno che il commercio ripassi attraverso la nostra città perché comunque chi ha avuto danni è residente all'interno del comune e quindi il giro economico all'interno della nostra città non può far altro che alimentare una ripartenza speriamo tanto veloce quanto l'è stata quella della ricostruzione o comunque della pulizia e della sistemazione della città è sicuramente una popolazione molto unita in questo momento speriamo che la cosa continui in questa maniera c'è stato un volontariato smisurato secondo me io ho avuto purtroppo l'occasione anche di partecipare ad altri momenti di volontariato quando c'è stato il terremoto all'Aquila o a Finale Miglia ha fatto tanto volontariato con il gruppo scout una presenza come quella che c'è stata a Cesena in questo caso è vero che il terremoto è una cosa l'alluvione è un'altra però c'è stata un'adesione incredibile e ripeto una presenza da parte dell'amministrazione comunale che è stata secondo me al limite dell'incredibile e questo è quello che accennavamo anche prima a quanto questo faccia bene all'umore cioè noi abbiamo vissuto come gruppo societario in primis un sostegno a delle cucine o comunque ad uno smistamento pasti importante all'interno del comune il vedere l'amministrazione comunale presente tutti i giorni in veste civile nello sporcarsi le mani nel chiedere come stava andando nel volerci essere nel voler sentire anche l'opinione di tutti quei volontari che gratuitamente hanno lasciato lavoro fermato tutto quanto e si sono messi in gioco per altre persone che potevano essere vicini di casa amici, parenti o anche gente che non si è mai vista secondo me è stato qualcosa di unico speriamo che non si debba ripetere mai più però comunque penso che sia un fiore all'occhiello di cui andare veramente molto molto orgogliosi si aspettava sindaco tutta questa risposta dei volontari abbiamo visto i giovani tra un po' li sentiremo anche a dare una mano anche insomma al vicino di casa oppure a una persona sconosciuta gente che è arrivata da tutta Italia ma io per come conosco Cesena non sono così sorpreso però non mi aspettavo così tanto lo dico tra l'altro con l'occasione per ringraziare Nicola e tutto il suo staff tornando al centro Don Milani dovevamo un po' il punto di riferimento di tutto il volontariato dove partivano le squadre c'è stato volontariato anche spontaneo ma noi abbiamo cercato un po' di organizzarlo e soprattutto di mettere tutti i volontari nelle condizioni di poter aiutare distribuendo gli stivali le pale distribuendo loro i pasti e quando ho visto Nicola con la divisa da chef insieme ai suoi collaboratori e l'ho riconosciuto non subito perché ci vediamo qui o nel suo locale in altre condizioni l'ho abbracciato e ho capito che oltre ai cittadini oltre ai vicini di casa gli amici e i parenti tutta la città si sta muovendo le imprese hanno dato tanto chi ha chiuso la propria attività per dedicarsi all'emergenza e chi ha continuato a mandare mezzi mezzi per il soccorso mezzi per lo svuotamento delle cantine delle case dall'acqua cibo derrate alimentari ogni cosa che si rendesse necessaria tanto che a un certo punto abbiamo in qualche modo detto basta abbiamo iniziato a trasferire queste cose che arrivavano anche agli altri comuni che magari essendo stati coinvolti in una fase successiva rispetto alla nostra non avevano quell'attenzione non stavano ricevendo così tanto come noi quindi un senso davvero di solidarietà io direi di fratellanza per utilizzare un termine antico gigantesco che mi fa sentire orgoglioso di essere il sindaco di questa di questa città siamo riusciti davvero a dare una risposta di grande impatto ora quello che dico è che subito ho notato dopo i primi dieci giorni che quando poi ciascuno necessariamente torna alla propria attività perché è vero quello che veniva detto noi dobbiamo ripartire poi vi parlerò di quello che accadrà nei prossimi giorni con l'Oscar del cicloturismo che ospitiamo a Cesena chi rimane da solo con i propri cocci cioè con le proprie rovine con il danno nelle proprie abitazioni non va lasciato da solo quindi noi vogliamo continuare nei prossimi giorni ad essere vicini e vogliamo e poi se volete vi racconto qualcosa anche su questo iniziare tutte le pratiche che speriamo siano il più veloci possibile e meno burocratiche possibili per poter far arrivare gli aiuti i primi aiuti saranno quelli per gli sfollati quindi un contributo per l'autonoma sistemazione a chi ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni poi arriveranno gli altri contributi per i danni allora direi facciamo una pausa e ripartiamo proprio da qui dai ristori rimborsi aiuti che arriveranno e che sono così importanti in un periodo così difficile per la Romagna sì pubblicità Romagna capitale Romagna ballerina siamo tornati in studio con il nostro Vox Populi stiamo parlando delle conseguenze della situazione dopo l'alluvione che nelle scorse settimane ha colpito la Romagna abbiamo fatto un po' una conta dei danni abbiamo parlato di quello che è successo nei primi giorni specialmente dell'emergenza ma c'è anche la necessità lo abbiamo detto di ripartire e di farlo subito serve una ripartenza veloce immediata e senza pause l'ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nei giorni scorsi ha fatto un lungo tour di una giornata in tutte le zone più colpite dall'alluvione allora Presidente parto da lei in questo momento secondo lei che cosa serve per ripartire subito come dice Mattarella ma serve intanto rimanere accanto a chi ha avuto i problemi alle nostre imprese perché è dalle imprese che poi si può ripartire cioè il lavoro è importante noi come Commercio direi che la nostra Confederazione Nazionale fin da subito ha messo in campo una tax force sono venuti a Cesena siamo andati in giro proprio anche in città a verificare di persona quali erano le condizioni perché vogliamo comunque come Commercio ai nostri associati dargli la possibilità di un piccolo aiuto certo per chi ha subito dei danni e quindi gli vogliamo stare vicini perché sono nostri soci è chiaro che è giusto che quando c'è bisogno è giusto anche dare e quindi abbiamo anche messo in campo una raccolta fondi come Commercio Cesenate proprio per vedere perché abbiamo visto che c'è una grande solidarietà e proprio per poter arrivare alle nostre imprese non dico di risolvergli problemi perché noi non ci ammiriamo di risolvergli problemi però a volte anche quelle 2-3 mila euro o 4 mila euro che possono servire nel momento magari iniziale sono molto importanti ieri per esempio siamo stati a Bologna c'è venuto a trovare il nostro presidente Sangalli abbiamo parlato appunto di cosa fare cosa non fare anche la confederazione metterà appunto a disposizione delle risorse attraverso la fondazione Orlando attraverso il fondo di solidarietà cioè c'è tutto un movimento in confcommercio e sono orgoglioso di questo perché confcommercio c'è ed è proprio in questi momenti che bisogna far sentire la vicinanza di una grande organizzazione io mi ricordo anche quando ci sono stati terremoti in giro purtroppo per l'Italia la confcommercio ha sempre avuto un ruolo molto importante e lo sta dimostrando anche qua nei nostri territori perché si sono attivati subito e ci saranno delle risorse direi anche abbastanza importanti però è chiaro che le imprese sono tante perché non c'è solo Cesena c'è Forlì c'è Rabenna c'è Faenza che hanno avuto dei danni importanti però noi ci siamo confcommercio c'è e vogliamo essere vicini ai nostri imprenditori già questo sicuramente è importante per le imprese del territorio il governo vengo da lei la Tuca ha stanziato i primi due miliardi di euro perché ora è questa l'attesa cioè c'è attesa per capire come arriveranno questi ristori come funzionerà il meccanismo di aiuti e sono partite le richieste di rimborso lo diceva anche lei poco fa le prime sono per coloro che ovviamente hanno dovuto lasciare la propria casa ecco che cosa accadrà poi questa è la prima fase che è operativa da oggi quindi abbiamo noi tutti i comuni hanno pubblicato i moduli sono moduli di quattro pagine non particolarmente complessi da compilare con i dati anagrafici i dati dell'immobile che si è stati costretti abbandonare da lunedì li riceviamo allo sportello facile del comune di Cesena ogni comune si è organizzato al proprio modo si possono inviare anche firmati via PEC e questi daranno diritto ad un contributo che viene dato a tutte le persone ai nuclei familiari sulla base di quanti componenti caratterizzano un nucleo familiare per il periodo che speriamo sia il più breve possibile che si trascorre fuori dalla propria abitazione magari ospitati anche da amici o parenti quindi sono soldi sono risorse che servono anche per diciamo reggere la difficoltà il disagio di una fase che si vive consideriamo che ci sono persone e famiglie che hanno perso davvero tutto non hanno più un indumento non hanno più un mobile non hanno più qualcosa per cucinare le cose quotidiane della vita oltre ai ricordi che è una cosa che ha un valore economico non commensurabile c'è chi non ha più le foto di chi non c'è più dei parenti che non ci sono più davvero una cosa molto molto intensa anche dal punto di vista emotivo poi la fase successiva concordata con la regione Emilia Romagna che possiamo permetterci di fare tra enti locali e regione Emilia Romagna è quella di dare un primo contributo che andrà tra i 3 e i 5 mila euro rispetto a chi ha avuto dei danni e che può richiedere questi contributi attraverso un modulo che uscirà in queste ore di autocertificazione noi naturalmente abbiamo fatto una delibera un atto ricognitivo di tutte le strade e le zone della città che sono state colpite dalle esondazioni perché altrimenti sarebbe un po' caotica e quindi incroceremo queste domande che dei prossimi giorni riusciremo a ricevere con questa cosa è naturale che questi importi 3-5 mila euro non sono sufficienti però magari possono essere una boccata d'ossigeno che all'inizio consente di fare degli interventi chiamare elettricista iniziare a sistemare a sistemare qualcosa ecco il governo ha fatto il primo decreto è il primo decreto lo ha detto lo stesso la stessa presidente del consiglio dei ministri aspettiamo il resto perché abbiamo partecipato anche a qualche presentazione ci sono molte risorse anche per le imprese per l'export per delle cose importanti che però non sono proprio il centro del problema quindi abbiamo bisogno di risorse per dare degli indenizi consistenti perché ci sono situazioni che richiedono contributi non di qualche migliaia di euro ma di alcune decine di migliaia di euro naturalmente in quel caso ci sarà un procedimento un pochino più complesso perché ci vorrà una perizia di un tecnico che deve asseverare quello che è accaduto la condizione dell'immobile che è stato danneggiato questo credo che varrà sia per le abitazioni che per le imprese sulle imprese poi c'è l'incrocio col tema assicurazioni che complica un po' cioè che complica un po' la faccenda burocratica ma che può dare una parte di risposta perché in alcuni casi sulle polizze imprese ci sono delle coperture che aiutano poi a ripartire la cosa fondamentale sarà quello di fare in tempi celeri rispetto ad altre emergenze penso a quella dei terremoti qui ci sono le condizioni tecniche pratiche per tornare a casa nel giro di un mese due mesi tre mesi quattro mesi a seconda di quanto è intenso il lavoro di manutenzione straordinaria che si deve fare sull'immobile bisogna però aiutare soprattutto chi non ha la liquidità perché chi ha la liquidità può anticipare fatture e poi magari viene rimborsato anche dopo un tot di tempo ma chi non ha la liquidità va aiutato a farlo subito a rimettersi in pista subito altrimenti i costi anche per lo Stato saranno superiori perché dovrà prima sostenere il fatto di collocare fuori dalle proprie abitazioni le persone e nel frattempo pagare quel contributo di autonoma sistemazione e poi vedere realizzato l'intervento di sistemazione vera e propria dell'abitazione Vignatelli velocità l'ha detto il presidente della provincia di Forlice Sena dovrà essere una parola chiave d'ordine per queste settimane assolutamente importante perché la mancanza di fatturato noi ci stiamo rendendo conto che il mancato incasso quindi le aziende che hanno sopportato degli investimenti e parlo non solo di aziende commerciali ma si parla appunto di tutte le aziende di tutto il tessuto economico che ha messo in campo le proprie risorse non ha tantissime forze dopo tutto il periodo di cui anni stiamo venendo fuori dopo lockdown dopo i problemi energetici la guerra che continua a creare comunque un 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 psicologico che che coincide e che va a a colpire tutti quanti questa cosa qui sicuramente eh aggrava ancora di più tutto quello che era lo stato da cui siamo partiti c'era stato una ripartenza questo raffredda ricongela di nuovo tutto quindi c'è bisogno assolutamente di ripartire in fretta in fretta perché gli stessi imprenditori e le stesse famiglie hanno bisogno di ritornare di nuovo a vivere una linfa vitale importante per tutti ecco vengo da lei Paganelli ripartenza veloce grazie a Ristori rimborsi lei che ha avuto veramente danni molto ingenti che cosa chiede alle istituzioni beh intanto diciamo che purtroppo per le mie attività sono abbastanza abituato perché io gestendo sale cinematografiche e producendo film lavorando nell'ambito nel settore della cultura tra pandemia prima covid sale cinematografiche chiuse e costi energetici per la gestione delle sale cinematografiche sto vivendo 3-4 anni veramente di intense passioni però l'abitudine mia personale è quella di cercare di lamentarsi poco o niente perché con le lamentele non si arriva da nessuna parte e cercando di lavorare e trovare delle soluzioni quindi è chiaro che da soli non ce la si può fare noi dobbiamo sempre ringraziare comunque il nostro ministero della cultura che in questi anni ci ha accompagnato e ci ha aiutato a diciamo a superare questi momenti di difficoltà perché ricordiamoci che la pandemia per alcune attività e alcune attività si sono riprese molto velocemente noi viaggiamo ancora a un meno 50% di presenza nelle sale cinematografiche perché l'abitudine l'italiano ha perso l'abitudine a frequentare i luoghi di cultura e ci vuole molto tempo noi fino a 6-7 mesi fa eravamo ancora a meno 80% diciamo che lentamente cominciamo a migliorare a seconda dei periodi e adesso anche questa tragedia che ha colpito la nostra città ha influito anche questa nelle presenze nelle sale cinematografiche della nostra città perché chiaramente i giovani erano tutti a spallare del fango giustamente e quindi abbiamo avuto un ulteriore danno al danno ecco quindi al danno personale io ho avuto anche un danno collaterale con le mie attività però ripeto lamentarci non porta a nulla cerchiamo di lavorare e soprattutto a cercare di trovare delle soluzioni per riportare la gente a frequentare i luoghi di cultura tra l'altro lei doveva essere a Cannes se non sbaglio io dovevo essere a Festival di Cannes perché per il prossimo anno ho in mente di produrre il secondo film girato qui a Cesena il primo era Est di Tatturale e questo qui invece si intitolerà Tornando ad Est e vedrà sempre la mia città come protagonista e il film avrà almeno un paio di settimane di riprese in città e puoi portarla soprattutto in giro nei festival come ho fatto con il primo film e far vedere la nostra città è bello anche parlare insomma di eventi futuri che a quell'ora verso la primavera del 2024 dovrebbero essere riprese giusto se è ancora quello il programma ci sarà una Cesena speriamo bellissima che già lo è insomma come diceva il sindaco si è già praticamente ripresa è già stata del tutto ricostruita e sarà anche occasione per rilanciare la nostra città quell'occasione Pozzate dicevamo veniamo da anni difficili meglio sorridere meglio prenderla così come facciamo in Romagna perché ce l'hanno anche riconosciuto da più parti questa è l'ennesima tegola insomma che arriva veniamo da anni forse difficilissimi più che difficili però forse come abbiamo dimostrato anche in questa emergenza è un po' è un po' proprio il non perdersi d'animo che fa la differenza ci siamo rimboccati le maniche tante volte siamo ripartiti tante volte ripartiamo anche questa volta finché c'è la struttura finché si riesce a vedere comunque una presenza una partecipazione da parte di tutti attiva in questi giorni subito dopo l'alluvione sono partite centinaia di proposte di organizzazioni e eventi in cui il tessuto commerciale cesenate farete in una maniera incredibile associazioni di beneficenza volontariato la croce rossa che secondo me è un altro di quegli organi che è stata colpita disastrata ma è un punto importantissimo per noi che dobbiamo assolutamente cercare di salvaguardare di tutelare e poi tutti i vari istituti enti che si stanno mettendo in gioco penso sia esattamente proprio la formula vincente che noi adottiamo in ogni momento di difficoltà facciamo rete creiamo un tessuto collaboriamo e cerchiamo di far capire che la voglia di esserci c'è la voglia di rimboccarsi le mani che c'è è logico che la determinante è sempre la presenza del cittadino perché volentonolente dal mattino fino a quando andiamo a letto la notte ognuno di noi è anche un cittadino normale oltre che svolgere il proprio lavoro e quindi ognuno di noi partecipa all'economia e alla vita quotidiana di tutti quanti del comune delle attività di ristorazione dei bar dei piccoli commercianti degli esercenti delle sale cinematografiche e quindi il nostro ruolo in realtà è determinante tutti i giorni in quella che è la ripresa di tutti quanti ecco sarà importante l'apporto di tutti fare squadra e abbiamo parlato presidente Patrignani un po' di quello che ci si aspetta nel breve periodo i ristori c'è un aiuto da parte del governo insieme alla TUC che ne abbiamo parlato ma servirà anche guardare un po' più lontano spostare l'orizzonte visto che comunque vediamo che negli ultimi tempi negli ultimi anni cambiamento climatico sta spesso portando a tragedie magari non di questa portata però comunque a forti eventi di dissesto idrogeologico anche su questo versante servirà un piano di ampio respiro per i prossimi decenni sicuramente servirà insomma l'uomo si deve adattare un po' all'ambiente quindi questo è stato un evento apocalittico però potrebbe ritornare quindi dal momento che è successo potrebbe succedere ancora quindi bisognerà cercare di organizzare meglio o comunque investire sul territorio per fare sì che se dovesse sperando che questo non possa mai succedere se dovesse succedere ancora che ci sia più una difesa della città quindi naturalmente bisogna intervenire sulle opere pubbliche sugli argini sulle casse di espansione insomma bisogna cercare di fare progetti importanti magari costruire anche qualche diga in più perché magari in certi momenti la siccità potrebbe avere un doppio effetto il fatto che quando c'è la siccità abbiamo la diga che magari ci dà l'acqua e quando invece non c'è la siccità magari ci può aiutare a prendere acqua per non farla puoi andare subito violentemente a valle cioè quindi sicuramente ci vorrà una riprogrammazione di tutto il nostro territorio anche perché non dimentichiamoci che noi siamo comunque un territorio alluvionabile cioè noi abbiamo terre bonificate cioè quindi diciamo così che l'acqua da noi anche in passato arrivava cioè quindi e quindi sarà sicuramente importante anche qui vedere cosa si può fare per far sì che se dovesse ancora capitare qualcosa insomma non voglio dire di non avere danni ma almeno limitarli quindi anche qui c'è un grande lavoro da fare io sono convinto che si farà perché perché insomma è sotto gli occhi di tutti che questa alluvione ha creato dei danni che che sono inenarrabili che pensiamo solo alle strade sono le strade le strane sono 761 quelle chiuse ci sono le nostre colline qui che sono purtroppo difficili ma in qualche caso difficili da raggiungere c'è un'economia importante che va salvaguardata queste frane magari ci saranno vedo una morfologia del territorio che è cambiata forse ci si dovrà decidere di far passare le strade da qualche altra parte e solo questo il fatto di dover studiare un nuovo progetto e poi metterlo in campo e poi ottenere la possibilità di intervenire purtroppo non richiederà poco tempo e questo non aiuterà perché invece noi avremo bisogno di farlo velocemente però è chiaro che i miracoli credo che non si possono fare io vedo che le istituzioni il fatto anche che sia venuto di nuovo qua il presidente Mazzarella la Von der Leyen insomma sono tutti la Meloni sono tutti sono tutti molto vicini a noi e questo è un bel segnale anche perché hanno detto un po' tutti che l'Emilia Romagna è un po' una locomotiva dell'Italia del nostro paese quindi essendo una locomotiva è giusto che la locomotiva la rimettiamo in campo perché dovrà continuare a essere una locomotiva e nello stesso tempo credo che sia anche giusto che chi ha sempre dato tanto come ha dato tanto l'Emilia Romagna nel momento di difficoltà ci sia anche la solidarietà da parte di tutte le altre regioni perché comunque credo che ce lo meritiamo certo poi è chiaro che come si diceva qui c'è il popolo romagnolo c'è anche un mio amico Sabelli che ha scritto un libro ancora in tempi non sospetti tanti anni fa che io ogni tanto lo ricordo prima della tempesta diciamo no che ha scritto ha scritto diversi libri ma ne ha scritto uno che dice il titolo è siamo tutti italiani ma solo noi romagnoli cioè quindi quindi per dire che il popolo romagnolo effettivamente c'è lo si sta vedendo che c'è però è chiaro in questo momento va aiutato anche perché il romagnolo come diceva appunto Maurizio non si lamenta tantissimo si rimbocca le maniche però in questo caso sicuramente rimbocarsi solo le maniche non basta abbiamo bisogno di una ripartenza più veloce quindi le istituzioni come hanno fatto capire che sono vicino a noi sono convinto che faranno le cose che saranno da fare insomma faranno le cose che saranno da fare il presidente della provincia Lattuca e si sta già pensando immagino ai prossimi step perché abbiamo visto appunto questo cataclismo l'abbiamo definito battersi sulla Romagna in maniera in certi versi sicuramente imprevista tuttavia servirà una programmazione per una prevenzione per questo dissesso idrogeologico nei prossimi decenni sì assolutamente fatemi solo ringraziare le colonne mobili della protezione civile dell'Umbria e dell'Abruzzo che ci hanno raggiunto e che oggi stanno ripartendo perché diciamo la fase più acuta è rientrata tutti i mezzi delle forze dell'Ordine Vigili del Fuoco dell'Aeronautico sono arrivati a tutte le parti d'Italia e i tanti volontari l'abbiamo sentita noi romagnoli questa vicinanza e ci ha fatto piacere stanno arrivando aiuti davvero da tutta Italia e credo che la nostra forza il nostro carattere abbia ancora di più spinto queste persone a sostenere lo spirito che già autonomamente avevamo dimostrato cosa c'è da fare per quanto riguarda la protezione dei centri abitati in particolar modo dalle esondazioni dei fiumi è abbastanza facile comprenderlo e immaginarlo guardate il Savio non ha rotto gli argini per fortuna perché altrimenti quell'immagine che vedevamo prima dell'acqua che cresce nel giro di mezz'ora un'ora in maniera abbastanza veloce sempre troppo veloce per impedire alle persone di mettere via al riparo le proprie cose non sarebbe stato possibile quando rompe l'argine esce tutto in una volta l'acqua non trabocca ma esce a fiume e travolge e non consente a volte nemmeno di nuotare a chi sa nuotare per mettersi in salvo quindi non è tanto e solo un tema di manutenzione certo sulla manutenzione si può sempre fare di più avevamo degli interventi in corso ad esempio sul torrente Borello dovevano terminare in autunno di solito si fanno d'estate perché uno pulisce il fiume d'estate il corso d'acqua per essere pronto per quella che doveva essere la stagione delle piogge qui la stagione delle piogge ormai è diventata maggio e quindi è anche tutto più complicato bisogna fare interventi strutturali straordinari la diga di quarto è stata importante per il corso del fiume Savio al di là di quelle fake news che poi sono girate in un pomeriggio di mercoledì perché perché già a mezzogiorno di lunedì quindi 12 ore prima che iniziasse a piovere in colline e montagna la diga di quarto che è gestita da Enel che produce lì energia elettrica con l'idroelettrico è stata diciamo progressivamente svuotata in modo che potesse contenere l'acqua la pioggia che poi si è prodotta nelle ore successive le casse di laminazione che sono soprattutto il risultato di cave di ghiaia o di sabbia di materiali inerti che vengono prelevate dai corsi dei fiumi hanno svolto parzialmente perché non sono tutte diciamo esaurite le fasi di scavo per estrarre questi materiali non sono esaurite hanno svolto una funzione importante ne dobbiamo far di più cioè dobbiamo come dire se la macchina se l'auto che guidiamo va ai 200 e non ai 100 all'ora dobbiamo avere dei freni che ci consentano di frenare anche ai 200 all'ora ecco noi abbiamo a che fare con dei fenomeni meteorologici più potenti più forti più veloci più immediati rispetto a quelli a cui eravamo abituati quindi dobbiamo essere più capaci più forti più resistenti facendo interventi di questo tipo sulle frane oggettivamente sarà perché conosco di meno il territorio colinare a Cesena ci sono comunque 73 frane ma diciamo il grosso è sui comuni da Mercato Saraceno a Sarsina a tutto Roccofreddo Sogliano Borghi Modigliano Civitella insomma tutta quella fascia lì faccio fatica a immaginare anche che tipi di interventi perché lì è la consistenza della terra che non vede la presenza di roccia come invece nella parte alta del crinale a Santa Sofia a Banni di Romagna a San Piero a Portico che ha reso così fragile il territorio quindi certamente degli interventi si possono fare e certamente non sono io ma devono essere geologi ingegneri a programmare questi interventi ma secondo me per le frane è ancora più difficile capire cosa si può fare preventivamente c'è un rischio grosso che non dobbiamo correre che quelle aree lì che sono aree interne già soggette spopolamento dopo un evento del genere se non si riesce a ricreare quelle condizioni prima veniva detto il presidente di ConfCommercio ci sono pizzerie attività lungo non so il passo del carnaio che per mesi magari rimarranno chiuse perché non c'è più il transito lì rischiamo l'amazzata definitiva diciamo all'abbandono di quelle parti dei territori ed è una cosa davvero davvero preoccupante anche come come dire impatto sociale ed economico che si rischia di avere su questo territorio ricominciamo tra pochissimo proprio da qui dai piccoli borghi dall'Appennino che è veramente in ginocchio dopo le centinaia di frane che lo hanno coinvolto tra pochissimo Siamo tornati in studio al nostro Vox Populi stiamo parlando del fenomeno dell'alluvione delle scorse settimane in Romagna di come ripartire di che cosa fare stavamo parlando insieme al presidente della provincia di Forlice di Sena la tuca dei paesi quelli dell'Appennino i borghi che vengo da lei vignatelli che proprio diciamo negli ultimi anche anni hanno avuto una grande esplosione dal punto di vista turistico si parla insomma del turismo termale piuttosto che del turismo quello dedicato all'aria aperta quello del trekking eccetera insomma c'è veramente il rischio oltre allo spopolamento che questi piccoli borghi di questi comuni montani possano veramente risentire troppo delle conseguenze di questa alluvione sì il rischio c'è c'è perché tutte le famiglie che vivono in questo territorio sono preoccupate del fatto di poter ritornare a essere collegate ritornare in rete perché il fatto di essere tagliati fuori da tutti quelli che sono i percorsi veloci per arrivare a questi a questi territori che sono appunto montani sono in campagna sono e sono i luoghi oggi che sono anche molto ricercati e evoluti anche non solo molto dagli italiani ma anche dagli esteri dell'estero e il fatto di di non di non essere di non poterli raggiungere velocemente e di essere visti come un qualche cosa di pericoloso di un qualche cosa che domani possa creare delle difficoltà impedisce invece di avere un rilancio e una ripresa che invece sarebbe importantissima è importantissima dagli anni del covid insomma tutti i problemi che ci sono stati tutti questi problemi ci sono stati ma soprattutto oggi si erano preparati tutti per questo rilancio che è importante e si cominciava a sentire quindi bisogna assolutamente sostenerli e quello che mi è stato chiesto proprio da queste persone che vivono nelle zone che avevamo citato prima è la facilità cioè poter creare velocemente strade e rimettere quindi in comunicazione il più breve possibile ma anche con delle con delle strade e con degli accessi veloci e rapidi perché altrimenti si rischia veramente di un abbandono di queste cose invece se si riesce se si riuscirà a fare in modo che la vita possa riprendere bene e con vedendo una prospettiva anche i giovani e le stesse persone che hanno ricevuto i danni che hanno ricevuto sicuramente ritroverebbero anche uno slancio e una volontà di portare avanti un qualche cosa che nel nostro territorio è molto importante ed è anche molto ricco e di non lasciare soprattutto quei luoghi e di non lasciare quei luoghi che se vengono abbandonati veramente si creerebbero ancora più difficoltà un evento questo dell'alluvione che è capitato anche alla vigilia vengo da lei Pozzatti della stagione turistica no? quella bella stagione che si attendeva e insomma invece ha creato tantissime difficoltà anche per gli imprenditori che insistono su questo settore beh sul tema delle tempistiche ormai non ci possiamo più lamentare perché a volte la bella stagione la stagione turistica inizia molto presto a volte finisce molto tardi guardiamo gli anni scorsi abbiamo avuto i mesi di ottobre che si stava ancora in maglietta maniche corte quindi quelle sono sempre cose risolvibili su questi aspetti sono molto nella filosofia di Paganelli cioè bisogna cercare di non lamentarsi delle cose che non servono ma piuttosto cercare di fare il massimo quando si può quello sì è logico che comunque si percepisce tanta incertezza tanta insicurezza legata al turismo cosa che io vedo in realtà molto sbagliata anche semplicemente il fatto di parlarne realisticamente perché? perché ad oggi un posto sicuro non c'è più cioè la grande città piuttosto che il piccolo paesino piuttosto che la campagna in qualsiasi momento potrebbe essere un posto insicuro e questo ce lo dimostra la nostra storia degli ultimi vent'anni trent'anni cinquant'anni fatto sta che invece ecco curare le bellezze del territorio i presidi che noi abbiamo le tante caratteristiche del nostro paese di quella che è sempre stata l'anima reale dell'Italia piccoli borghi le piccole produzioni le coltivazioni di nicchia gli allevamenti meno intensivi e tutto quello che ha sempre reso il nostro paese così tanto una chicca per l'estero ma anche per i limitrofi quello sì quello va coltivato va valorizzato e penso che anche lì anche semplicemente se nel momento in cui c'è da ripristinare strade o tessuti di collegamento che sicuramente non è immediato e non è facile anche per le varie amministrazioni comunali tutto quello che possiamo fare e torno lì è fare rete cioè ordinare l'olio da Monteleone invece che andarlo a prendere al supermercato potrebbe essere una buona mossa cercare di educare o iniziare a sensibilizzare tutto il tessuto cittadino a quello che è il piccolo acquisto dal vicino di casa piuttosto che dall'agricoltore diretto o insomma da chi possiamo andare ma semplicemente tornare adesso Paganelli gestisce attività cinematografiche ma tanti degli alluvionati magari hanno veramente la piccola botteghina dove andiamo a comprare l'intimo piuttosto che il latte piuttosto che le uova i quaderni e le penne per i bambini per andare a scuola è un tessuto che in questo momento deve vivere di quello deve vivere di collaborazione fatta da tutti e penso che questa sia la ripartenza più veloce che possiamo avere poi dopo metteremo a posto tutto quello che ci serve per la vita di tutti i giorni in maniera un po' più strutturata però da oggi a domani è quello che ci hanno trovati a fare quando c'è stata l'emergenza covid c'è stato detto da lunedì aprite ok da lunedì apriamo cioè come da lunedì apriamo eravamo fermi da mesi e quindi bisogna capire qual è l'immediatezza dell'intervento da fare per iniziare ad avere subito un flusso che sia positivo poi si mettono a posto tutte le cose invece un po' più grandi è una bella riflessione anche quella di aiutare il negozio ecco del quartiere a ripartire torniamo però a parlare della stagione turistica presidente Lattuca perché è partita sta partendo una campagna di promozione speciale che riguarda il nostro territorio l'Emilia Romagna perché sono arrivate tante disdette specialmente per la stagione magari balneare ecco però mi immagino che anche un po' tutta la Romagna abbia risentito delle immagini del fango delle città sotto il fango ecco da questo punto di vista che cosa si può fare? no dobbiamo mandare un messaggio forte siamo ripartiti siamo pronti ad accogliere abbiamo accolto al meglio lo dico hanno mangiato bene i volontari che ci hanno raggiunto nei giorni peggiori continueremo ad essere una terra accogliente e dobbiamo anche dire una cosa che c'è il 95-98% delle imprese delle famiglie che non ha fortunatamente ricevuto un danno sono migliaia le famiglie che hanno ricevuto dei danni e sono tante migliaia anche perché dentro quelle migliaia c'è chi è più nelle condizioni di ripartire chi da solo non ce la fa però il resto delle comunità sono attive possono essere continuare ad essere un punto di riferimento solidale quando si è in 100 se i 2 o 3 stanno male gli altri 97 se si mettono a aiutare li portano fuori quei 3 che sono in difficoltà e però per aiutarli devono continuare a produrre attraverso le imprese il lavoro la ricchezza quindi noi abbiamo bisogno di andare avanti con un animo con l'animo un sentimento anche di rispetto nel modo in cui facciamo le cose per chi sta soffrendo perché ci vuole rispetto anche per i sentimenti penso anche agli eventi calcistici o agli eventi che organizzeremo in questi giorni ma da questi giorni ripartiamo ripartiamo con l'Oscar del cicloturismo il cicloturismo è una leva importante e ci sono percorsi sicuri di cicloturismo che si possono fare oggi in Romagna poi ci sono le tante strade chiuse ma ci sono quelle aperte che si possono percorrere non bisogna percorrere naturalmente e avventurarsi in quelle chiuse ma possiamo farlo oggi lo faremo lo abbiamo fatto lo stavamo facendo con il Giro d'Italia che è passato dal di qua lo faremo con gli eventi della stagione estiva lo faremo con la nostra spiaggia che è già pronta in questi giorni lo è già da pochi giorni dopo l'alluvione per accogliere i turisti e le persone da ogni parte d'Italia e del mondo quindi questo è un messaggio forte che dobbiamo mandare ma dobbiamo andare per raccontare le cose diverse da quello che sono ma perché è così perché è così e per aiutare chi è davvero in difficoltà abbiamo bisogno di mandare avanti le nostre attività le nostre comunità io credo che ce la possiamo fare e credo che anche nel giro di qualche giorno perché vedete ogni ogni cosa ha un risvolto positivo e negativo noi rischiamo che tra qualche giorno il Presidente della Repubblica ci ha detto non sarà così di sentirci più soli nell'affrontare le difficoltà perché i giornali nazionali già hanno iniziato i media nazionali non parlano più non fanno più vedere le immagini quelle più drammatiche delle emergenze il risvolto positivo di questa diciamo oblio di questa distanza che a un certo punto ci sarà rispetto ai nostri problemi è che la preoccupazione infondata di non poter essere accolti nel migliore dei modi qua nelle persone svanirà siamo ai primi dell'estate all'inizio dell'estate abbiamo la possibilità io credo dal mese di giugno di ripartire in maniera piena e anche convincente poi funzionano tutti i mezzi funzionano i social funzionano i media tradizionali le campagne funziona l'esperienza di chi verrà qui e dice sono stato 5 giorni a Cesena in Romagna e mi sono trovato bene tutto ok le cose funzionano i ristoranti sono aperti ci sono gli eventi la spiaggia è a posto la biblioteca malatestiana è visitabile tutto gliel'ha chiesto anche il presidente Mattarella sì il presidente Mattarella della biblioteca malatestiana che aveva visitato la biblioteca malatestiana il 2 maggio era rimasto estasiato dalla biblioteca malatestiana e ieri ecco lì quelle immagini lo lo riportano quando l'ho incontrato prima a Forlì e poi a Cesena una delle prime cose che mi ha chiesto poi lui aveva già visto la distruzione eccetera ma come sta la biblioteca malatestiana e quando gli ho detto che non c'erano particolari problemi che non c'era stato alcun danno né al patrimonio liberario né all'integrità della biblioteca ha tirato un sospiro di sollievo è bello anche questa immagine insomma che il presidente della repubblica si preoccupi dei nostri dei gioiali cittadini delle città è molto bello riprendo quello che diceva adesso il presidente la Romagna è pronta la nostra riviera è prontissima sì nel mese di maggio ci sono state le disdette perché quando noi siamo la prima industria del turismo a livello europeo e cosa succede che ci sono anche i concorrenti e quando i concorrenti hanno visto queste difficoltà hanno cominciato a dire che magari in Romagna si faceva fatica a fare turismo perché è normale i concorrenti a volte fanno sempre così e quindi con l'alluvione che ancora il territorio in certe parti c'era esistente le disdette sono arrivate non c'è poco da fare nel mese di maggio le disdette ci sono state però il mese di giugno noi abbiamo notizie che disdette non ce ne sono perché comunque hanno capito che la riviera è pronta che siamo pronti di nuovo a fare turismo come abbiamo sempre fatto e quindi ci aspettiamo di nuovo una gran bellissima estate perché credo che un territorio come il nostro sia difficile da trovare in altre parti del mondo l'ospitalità la cortesia l'enagostronomia i nostri borghi le nostre esperienze le nostre vallate che per certi versi alcune sono ammaccate però comunque la vita continua direi che io sono molto fiducioso che ci sarà un turismo molto importante così come poi erano le aspettative quindi venite in Romagna che l'estate è alle vostre porte l'estate da noi è sempre un motivo di gioia e di spensieratezza venite in Romagna per fare le vostre vacanze come avete sempre fatto perché qui noi siamo prontissimi Pozzati l'avete detto anche ai tanti volontari che avete visto da tutta Italia di venire in vacanza magari oppure a fare un giro anche nei prossimi mesi in Romagna e tornarci a trovare sicuramente in una situazione meno drammatica sicuramente molti anche di quelli che hanno contribuito è gente che ha la Romagna nel cuore perché comunque la Romagna fa un po' questo effetto ti rimane impressa una volta che la vivi sia da turista che da cittadino speriamo speriamo che l'adesione del turismo e di tutti i volontari che ci sono stati che veramente sono stati come diceva anche prima il sindaco una marea una valanga gente da Friuli dal Veneto dalla Toscana dalla Lombardia da Sud Italia io i due giorni di massimo alluvione ero a Lecce per una fiera e sono rientrato tardi perché poi la situazione autostradale purtroppo era quella che era si era sparsa la voce a Lecce che tramite un amico che noi eravamo residenti a Cesena e non vi dico quanta gente per strada ci chiedeva come fosse la situazione come stava andando perché comunque i telegiornali di tutta Italia parlavano di noi e questo deve essere un segnale di stimolo come dicevamo prima è stato importante avere l'amministrazione comunale avere tutte queste energie tutta questa enfasi che ci stava attorno nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di ripulire tutto quanto la vicinanza sicuramente della popolazione italiana al popolo romagnolo c'è e rimarrà costante quindi dobbiamo semplicemente fare come abbiamo sempre fatto un grande sorriso una gran voglia di accogliere tutti quanti e far vedere quello che siamo e quello che possiamo offrire Vignatalli per chiudere anche questa riflessione che abbiamo fatto sulla ripartenza dagli associati a Forlì che atmosfera sente che cosa si dice c'è ottimismo per la ripresa oppure no? Dunque Forlì sta vivendo come un po' dappertutto questo grande momento di solidarietà e il fatto di sentirsi tutti parte di questo di questa Romagna e di queste città che vivono questi momenti qui si sente che c'è una forza interiore perché quando non ti senti abbandonato quando ti senti parte di un qualche cosa di importante e tutti te lo stanno dimostrando hai voglia di ripartire ecco anche le imprese colpite anche le imprese colpite certo anche le imprese colpite secondo poi c'è chi chiaramente è stato colpito o molto duramente o continuamente quindi è anche esausto di 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 subire delle cose e non ce la fa proprio più perché c'è anche chi non ce la fa più però oltre a quelle persone lì che vanno sostenute e tutti insieme dalle istituzioni a noi l'associazione dobbiamo cercare di sostenerli perché ogni insegna che si spegne ci insegniamo ce lo diciamo da tanto tempo si spegne una parte di tutti noi quindi sostenere soprattutto chi è veramente gravemente in difficoltà ma ripeto questa solidarietà che si è espressa che si è vista dappertutto è motivante quindi secondo me il piacere il piacere di la voglia di ripartire c'è il desiderio di ripartire c'è e non dobbiamo avere paura come si diceva di porgerci per quello che veramente noi siamo con tutte le ricchezze che abbiamo noi abbiamo arte abbiamo città d'arte abbiamo il mare abbiamo il turismo abbiamo da offrire l'enogastronomia e tanto altro ancora anche se il panorama in generale può anche essere cambiato però lo spirito e quello che noi offriamo è sicuramente un qualche cosa che imbattibile imbattibile e che dobbiamo continuare a proporlo ma Ganelli è vero c'è questo spirito di aiutare anche chi magari ha avuto più danni tra imprenditori sì beh sicuramente ci sono delle attività che sono più o meno colpite però come diceva Vignatelli la solidarietà è veramente stata incommiabile io ho delle immagini ancora della mia via ex tirassegno che è stata la via in assoluto più colpita ma anche la prima ad essere aiutata con una marea umana di giovani che veramente erano disposti a qualsiasi tipo di lavoro badile eccetera e io spesso dicevo a loro andate anche nelle vie interne del quartiere perché l'acqua aveva superato addirittura via sabbia quindi era un'area veramente molto ampia che era stata colpita e questi giovani veramente con questi badili sporchi di fango a girare ho un paio di immagini di foto veramente una marea umana di giovani volontari questi sono segnali veramente molto molto belli che danno fiducia a vedere i giovani che spesso vengono criticati ma in questo caso i giovani sono stati veramente la forza ma non solo la forza manuale ma la forza anche psicologica e morale e hanno dato un aiuto a queste abitazioni distrutte devastate insomma Patrignani è stato bello vedere tutti questi giovani all'opera nel dramma questi giovani hanno fatto tornare il sorriso cantavano Romagna mia nel dramma abbiamo c'è speranza per il futuro infatti spesso si dice che i giovani non hanno voglia no i giovani hanno voglia di lavorare vogliono vogliono fare e nei momenti che contano l'hanno dimostrato dobbiamo credere un po' di più nei giovani e aiutarli a trovare il lavoro perché molto dipende anche da noi io sono orgoglioso di avere visto queste immagini di questi giovani perché mi hanno risanato l'anima come si dice nel dramma c'era comunque questa questa forza psicologica che ti danno e che ti fanno sentire bene e ti fanno sentire che siamo ancora un popolo un'umanità che ancora esiste quando spesso a volte invece si pensa ma qui non c'è più non c'è più un amor proprio non c'è niente invece invece c'è ancora tanta tanta buona tanta buona umanità e che ti risana proprio il cuore l'anima e ti mette una grande gioia di stare assieme assolutamente allora presidente Latuca vorrei concludere con lei con un pensiero non solo a tutti i ragazzi che sono intervenuti nelle scorse settimane a Cesena ma anche a tutte le forze dell'ordine la protezione civile insomma tutto l'apparato anche dello Stato che ha aiutato Cesena Forlì Faenza ma anche tutto l'Appennino queste un po' in Ravennate le città insomma e i territori più colpiti da questa emergenza sì è un ringraziamento gigantesco che noi dobbiamo dare a tutti quelli che sono stati impegnati nei soccorsi io ricordo la via ex tirassegno alle 3 di notte in via ex tirassegno tra martedì e mercoledì sono terminati i soccorsi di tutti quelli che non erano almeno al primo piano quindi in una condizione di sufficiente sicurezza sebbene senza elettricità la mattina dopo stava rischiando di esondare anche Rio Marano avrebbe coinvolto il quartiere di Casefinani insomma tra martedì e mercoledì la situazione poteva degenerare il ringraziamento va a tutti quelli che sono stati lì nelle prime ore anche soccorritori improvvisati che con i canotti con le canoe hanno tentato in ogni modo di arrivare ancora prima che arrivassero i mezzi anfibili i vigili del fuoco e a tutti i volontari che nei giorni seguenti hanno iniziato perché da giovedì 48 ore dopo l'esondazione di fatto è iniziata la ripartenza della nostra città se ce l'abbiamo fatta in così poco tempo è grazie a questo grande cuore a questa grande generosità ecco non dobbiamo mettere da parte questo sentimento di unità e di fratellanza della nostra comunità perché continuano ad esserci come ci siamo ripetuti migliaia di famiglie e di imprese in difficoltà e quindi dobbiamo continuare ad aiutarci ecco il messaggio che voglio mandare è questo se noi continuiamo nei prossimi mesi ad aiutarci ci alzeremo definitivamente in pochissimo tempo ce la faremo timbota direi così a conclusione anche il nostro il titolo dire come l'ha detto prima il presidente ma evito il bonus è due due volte a puntata si può dire però è il massimo bene con questo auspicio anche un sorriso guardando al futuro dopo il dramma dell'alluvione chiudiamo qui questa puntata del nostro Vox Populi grazie al nostro presidente di Conf Commercio Cesenate Augusto Patrignani grazie ad Enzo Lattuca presidente della provincia di Forlì Cesena e anche a Maurizio Paganelli l'imprenditore l'imprenditore anche Nicola Pozzati e Roberto Vignatelli che è presidente di Conf Commercio di Forlì e grazie ovviamente anche a voi per averci seguito Romagna capitale Romagna ballerina Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina Romagna passione da ti specchi nel tuo mar Romagna capitale Romagna super star e grazie a tutti